La visibilità della tua ricerca, la capacità di attrarre lettori e citazioni, dipendono anche dalla sede editoriale e dalla modalità di pubblicazione. Numerosi studi hanno rilevato che pubblicare in Open Access incrementa il numero di citazioni dei lavori scientifici. Scegli sedi editoriali che consentano di pubblicare in Open Access nella modalità Gold, Platinum oppure Green per ottenere un vantaggio citazionale e una maggiore visibilità senza rinunciare alla qualità. Nei settori scientifico-disciplinari soggetti a valutazione bibliometrica, le riviste di maggiore impatto sono presenti nei database citazionali, come Web of Science o Scopus, che selezionano le sedi editoriali sulla base di criteri formali, come l'uso di codici identificativi, ISSN e DOI, peer review, codice etico, metadati completi ed esaustivi, puntualità nella pubblicazione, criteri qualitativi come la composizione del comitato editoriale, La rilevanza scientifica è l'originalità dei contenuti pubblicati, la provenienza degli autori, criteri quantitativi come il computo delle citazioni delle pubblicazioni e degli autori. Verifica la policy per l'Open Access per assicurarti di poter rispettare gli obblighi di Ateneo e di eventuali enti finanziatori prima di inviare il manoscritto a un editore. Sherpa Romeo è una banca dati pubblica online che fornisce informazioni chiare e sintetiche sulle policy per il Green Open Access dei principali editori di riviste scientifiche internazionali. Il Green Open Access è sempre gratuito, ma può essere soggetto alle condizioni degli editori che richiedono in genere un periodo di embargo e consentono il deposito della sola versione post-print. Cerca in Sherpa Romeo la rivista su cui desideri pubblicare e verifica le condizioni di deposito nel repository di Ateneo per il Green Open Access. La pubblicazione in Gold Open Access ti consente di usufruire immediatamente del vantaggio citazionale, ma è di solito soggetta al pagamento di una tariffa di pubblicazione, in genere rimborsata dagli enti di finanziamento della ricerca che richiedono l'Open Access obbligatorio. Se non sei beneficiario di un finanziamento, puoi però usufruire delle agevolazioni offerte dal sistema bibliotecario di Ateneo, che grazie alla negoziazione di sconti e di contratti di pubblicazione con i principali editori scientifici internazionali, ti consentono di pubblicare in Gold Open Access senza ulteriori spese oppure a tariffe ridotte. Quando pubblichi in Gold Open Access, gestisci con consapevolezza i tuoi diritti d'autore. Evita di trasferirli in modo esclusivo all'editore e assicurati che il tuo lavoro venga distribuito con una licenza aperta, come la Creative Commons Attribuzione, che ne consente il riuso etico. Fai attenzione alle truffe. Molti falsi editori, detti predatori, contattano gli autori accademici proponendo modalità di pubblicazione in Gold Open Access a prezzi scontati su riviste che hanno titoli simili a riviste di consolidata reputazione. Verifica sempre l'affidabilità e la qualità della sede editoriale a cui intendi inviare il tuo manoscritto. Puoi consultare a questo proposito il Directory of Open Access Journals, repertorio controllato di riviste scientifiche ad accesso aperto, Gold e Platinum, che rispettano requisiti minimi di qualità. In caso di dubbi, prima di inviare il tuo manoscritto, chiedi il supporto della tua biblioteca di riferimento per una consulenza esperta.